A tutti buonasera. 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 Cesare AMG. Ma c'è 1-12-6 sul cronometro con un 29-4 a chiudere dopo un 29-2 di penultimo quarto. Il successo dunque per Clapo Classe Italia e Stefano Baldi. Il training di Mauro Baroncini, la scuderia Giovani Italia. A segno subito in percorso di testa Stefano Baldi. Tiene a distanza Cesare AMG che corre comunque molto bene a sua volta. Ma la vittoria non sfugge all'allievo di Mauro Baroncini guidato nell'occasione da Stefano Baldi. Grazie. 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 Grazie.